Fa via il bello stile Maui, tieni il pallone in capo che è andazione di Maui Grazie a tutti Grazie a tutti E c'è la deviazione vincente di Osio Grazie a tutti Beppe Bua la conclusione, ha rispito la mano, come Beppe Bua c'è il gol, il gol di punta E' arrivato il puntone vincente di Beppe Bua Ecco un grande intervento di mano e poi c'è il gol di Beppe Bua, la doppietta personale del Bombe Grazie a tutti Diagonale c'è il gol, il gol dovrebbe essere di Beppe Bua che è intervenuto prima che la pallava a casa in linea Grazie a tutti Grazie a tutti Si accetta, la conclusione c'è il gran gol di Teorosio e Fiocca di gol Beppe Bua, il piattone c'è il gol di Beppe Bua, sotto l'incrocio Sotto la traversa c'è anche il gol di Teorosio e Fiocca di teo stecche Ciao a tutti Sbua, va via il bello stile Calciarieta metti in porta, trova il gol Beppe Bua la conclusione, c'è ancora il gol di Beppe Bua Implacabile bombe, una serata davvero di grazia Beppe Bua E c'è il gol anche di Teo Rosio Beppe Bua che ha toccato il tapin vincente Per il settimo gol personale di Beppe Bua E c'è il gol poi di Danilo Maui C'è Gloria anche per il bomber Stacker si inserisce, Beppe Bua Altro gol di Beppe Bua Quindi 13 a 3 Il Remida Il Remida questa sera è Beppe Bua 8 gol segnati, se non è un record poco ci manca Finisce dunque il match con la goleada 13 a 3 Da parte del Brianza Che ottiene così la prima vittoria in campionato in casa E' un bel 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 Grazie.